Invece Luca, una cosa, adesso visto che lo fanno sempre a me questa domanda, ma io non sono uno psicologo, quindi quando ci si trova in un momento veramente difficile, ma difficile è difficile, cioè significa che vedi, tappi un buco, esce acqua da qualche altra parte, tappi quello, inizia ad esserci acqua dall'altra parte, quali sono forse le cose più importanti da fare, anche qui questo il 20-80 per riuscire a rimanere, come dico spesso io, scoglio contro tempesta? Allora, se penso un po' ai momenti più difficili della mia vita, professionale, privata, la cosa che a me ha più aiutato è il cambiamento di mindset, cioè, come dire, ci sono delle cose che tu puoi cambiare nella vita e delle cose che non puoi cambiare, il punto è accettare ciò che non puoi cambiare e invece adoperarti per migliorare, per modificare ciò che dipende da te. Il problema cos'è? Che spesso le persone fanno confusione e si ostinano a modificare ciò che dovrebbero accettare, mentre invece accettano condizioni che tu da fuori le vedi e dici, porca miseria, ma qui c'è un enorme margine di operatività. A me quello che è servito molto è proprio il cambiare l'approccio mentale, cioè, intanto distinguere, io parlo di zona 1, zona 2, zona 3. Zona 1 sono le cose che dipendono strettamente dal mio potere, che sono il mio potere, cioè, cosa ne faccio il mio tempo libero? Cazzeggio o studio? Ascolto un audiolibro o sto a vedermi delle stories del cavolo su Instagram? Pianifico o, vado a braccio, risparmio o spendo? Investo? Qui zona 1. La zona 2 invece è zona 1. Zona 3 sono le cose che sono al di fuori della mia portata. L'avanzata di Amazon, le politiche della BCE, della Banca Centrale Europea, le decisioni di Donald Trump. Quelle lì, secondo me, sono al di fuori del mio cerco di influenza. E poi c'è la zona 2, e la zona 2 sono dove la zona 1 mia e la zona 1 di un altro si incrocia, quindi è una zona di semi-influenza. Sono quelle azioni che se io faccio so che posso modificare un po'. È la zona della leadership, del management, ho un'influenza sugli altri. Allora, a me avere questo schema in testa è stato utile perché quando, appunto, non so che cosa fare, io cerco di dire, ma questa roba qui è in zona 1, in zona 2, in zona 3, e io dov'è che mi sto spendendo? Esempio banale, l'altro giorno ho portato a scuola i miei figli, io ho tre figli, tra le altre cose da gestire, è fortuna che ho una moglie molto in gamba, li ho portati a scuola e sono uscito di casa, la scuola è vicino, in macchina saranno 5 minuti, sono uscito e mi sono accorto che non avevo il cellulare, perché, insomma, la mattina mi sveglio, non è che proprio ce l'ho come primo pensiero in testa, per fortuna. Boh, li lascio giù, va bene, faccio per tornare indietro, entro in un sottopassaggio, tutto in coda, e il tragitto che soltanto facevo in 5 minuti l'ho fatto in 2 ore, e non avevo il cellulare. Allora, in quella situazione il traffico per me era zona 3, perché è un qualche cosa che io non potevo in nessun modo modificare. Allora, in quei casi è inutile che tu ti ostini a spendere le tue energie in zona 3, ma devi andare in zona 1 e in zona 2. Allora, zona 1 è che cosa posso fare io per spendere questo tempo in modo migliore? Non so, avessi avuto il cellulare, avrei ascoltato un audiolibro. La radio, purtroppo, era in galleria e non andava. E allora, non so, lavoro sul respiro, perché Denise mi ha insegnato al marketer che io controllo un sacco di abitudini, cosa mangio, esercizio fisico, eccetera, ma non lavoro mai sul mio respiro. E allora ho iniziato a fare un whisky, coffee e water. Allora, ho iniziato a fare un po' di esercizi su questa cosa. Perché non fare il coffee mentre guidi che sei a rischio di svinimento? No, però per dire, oppure potevo stare in zona 2. Avesse avuto il mio cellulare, avrei potuto fare delle stories e cercare di impattare positivamente sulla vita degli altri. Oppure, potevo provare a vedere uno più incazzato di me nel finestrino lì di fianco e provare a fargli una battuta. Allora, in questo modo cosa succede? Che ci sono delle cose che non puoi cambiare. Poi io adesso la faccio sul traffico per spiegare le cose, però in realtà si può anche spostare su cose di scala più importante. Il fatto sta che, stando in zona 1, io sono stato grato per due ore di quel traffico in autostrada. Perché che non era autostrada? Perché ho anche pensato che sono fortunato. Cioè tu pensa a quello che ha fatto l'incidente mortale. Cioè tu pensa a quello lì che magari anche lui ha portato a scuola i suoi due figli e poi andava per il lavoro, però era lì al freddo, congelato, con la macchina distrutta e l'ambulanza che stava arrivando. Cioè ma tu pensa che fortuna che io sono stato due ore al caldo nella mia macchina mezza scassata, a lavorare sul respiro, a vedere gli scontrini da dare al commercialista, eccetera. Quindi questo per dire che la vita non è quello che ti accade, ma è quello che tu te ne fai di quello che ti accade, no? 20-80 anche qui la vita è per il 20% quello che ti accade. Per l'80% quello che tu te ne fai di quello che ti accade. Quindi per rispondere alla tua domanda e provando un attimo a sintetizzare mi sono un po' dilungato, lavoro su di me. Ecco, se non puoi cambiare gli altri, cambia a te, quantomeno l'approccio mentale a quello che ti accade. Grazie. Grazie.